Ciao a tutti, siamo qui per una nuova puntata di chitarra di un certo livello e oggi parleremo di una chitarra vintage, una Ovation Legend 1117 questo è un modello del 1979, questo tipo di chitarra è stata prodotta fino al 1999 questa ha già più di 40 anni, quindi veramente una chitarra vintage classico top in abete, fondo in materiale di resina, classico della Ovation, fondo bombato molto particolare, il manico possiamo vedere in noce con inserto in acero centrale la tastiera in palissandro con degli inlays in madreperla in forma di diamante ponte in noce, meccaniche dorate di Ovation, una chitarra con chiaramente uno stile retro il manico non è comodissimo, finitura lucida, è abbastanza grande, un po' impegnativo non è tra i più veloci, questa chitarra non è amplificata quindi ovviamente andremo ad ascoltarla solamente con il suo suono naturale ripreso da due microfoni Rode M5, uno posizionato al dodicesimo tasto e l'altro a metà tra il ponte e la buca per cercare di rendere più naturale possibile il suono che produce questo strumento grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti